Buon pomeriggio amici del Catania Beat Soccer ben trovati dopo la grande delusione di ieri per i quarti di finale persi contro Milano con un assurdo secondo tempo la formazione di Mister Belluso si ritrova oggi di fronte al Terracina questo campionato è diventato professionismo Fred grandissima rete del brasiliano che sigla un gol di antologia sbaglia il palleggio François Fred va sul rimbalzo con una grande conclusione di destro a uccellare il portiere di Terracina c'è calcio di rigore calcio di rigore per Catania parte Fred il tiro e c'è la rete Fred 3 a 2 Catania torna sotto meno 1 tutto pronto per il tiro libero che verrà battuto da Giudigno una buonissima posizione per tornare sotto speriamo che il numero 5 possa finalmente bucare la rete e ci riesce Giudigno la terza rete di Catania se non c'è fine il bene e il male che si inseguono così muse e abuso di me in fondo è tutto ordine e disordine ordine e disordine ordine e disordine ordine e disordine e disordine Grazie per la visione!